Cantiere di Valle Grande sulla Statale 16 in località Foce di Rocca San Giovanni, una barzelletta che purtroppo non fa nemmeno ridere. Era il febbraio del 2022 quando il modesto ponte è stato interrotto per metà col senso unico alternato mediante semaforo per lavori di consolidamento e ripristino strutturale. Interventi sacrosanti a carico dell'ANAS nella prima speranza di lavori celeri visto il traffico intenso dell'arteria nel pieno della costa dei Trabocchi. Il tempo scorre, il cantiere è ancora lontano dalla conclusione ed anche quest'estate i disagi nel pieno dell'alta stagione sono stati tantissimi con lunghe code anche di qualche chilometro eppure... Ed è un tranquillo giorno lavorativo di metà settembre, del resto le ferie di agosto sono lontane ma qui non si lavora, il cantiere è deserto. Gli anni passano, il ponte rimane ancora a senso alternato, il ponte Morandi in un anno è stato compiuto per 60 metri, in questo caso facendo un calcolo così sommario si lavora per 30 centimetri al giorno. Lavori al palo, sempre a singhiozzo, nonostante più volte i sindaci dei territori interessati abbiano sollecitato chi di dovere, ANAS in primis, pensate che in una dichiarazione congiunta datata aprile 2022 i primi cittadini di Rocca San Giovanni, San Vito Chietino e Fossacesia interpellarono l'ANAS chiedendo il fine lavori entro il mese di maggio dello stesso anno. Di acqua sotto il ponte da quel momento ne è passata ancora tanta, con l'indulgenza che adesso lascia il posto alla rabbia, la presa in giro è ormai colossale.